Le staccionate sono state sistemate, la pavimentazione, le recinzioni e le panchine sono state ristrutturate, sono state messe a dimora, nuove piante e riqualificate le piccole aree giochi esistenti. Nuova vita per il parchetto Maria Cristina di Savoia in via Reddavi dal quartier San Pasquale di Bari. L'area, meglio conosciuta come Villa Camomilla, riapre i cittadini dopo qualche piccolo intervento necessario per migliorarne la fruibilità. Gli interventi sono stati effettuati nelle scorse settimane, qui inoltre è stata creata anche una nuova area dedicata ai cani con strutture per l'agility dog, uno spazio pubblico rinnovato nel quartiere San Pasquale, accessibile a tutti, alle famiglie, ai bambini e alle amici a quattro zampe. I lavori sono stati realizzati nell'ambito dell'accordo quadro di durata biennale per la manutenzione straordinaria della red urbano per un importo complessivo di 30.000 euro. L'attività di restyling si è resa necessaria a seguito delle numerose segnalazioni dei cittadini della zona.